Eccoci arrivati, siamo al Pegasus Club di Catania, siamo in compagnia di Angela Favolosa Cubissa. Allora Angela, 69 anni ma è come averne 17, sempre bella pimpante, come ti è venuto in mente di intraprendere questa strada? Io ho fatto Italia's Got Time, ho visto la pubblicità, ho telefonato e mi hanno preso nel provino. Io ho fatto Italia's Got Time, poi c'era Maria De Filippo come giudice e mi ha portato a uomini e donne perché mi ha visto che ero una persona energica. E com'è gestire questo successo? Gestire il successo è bello perché una si sente di dentro sempre viva e sempre giovane. Ok, Angela, un uomo, cosa deve avere un uomo per attrarre Angela Favolosa Cubissa? A me gli uomini non mi interessano, perciò non ci faccio caso, anche che mi dicono qualche cosa ci dico sempre di no perché voglio stare sola, mi voglio divertire e non voglio avere a che fare con nessuno. Certo, ti vuoi divertire, giusto. E Angela, la tua musica preferita qual è invece? La mia musica preferita è Laus, anche che sono grande, è come se non 15, perciò il cuore ce l'ho sempre giovane. Giusto, giusto. E so che hai fatto anche un cd, giusto? Sì, ho fatto un nuovo cd che si intitola Angela Balla Balla, così faccio ballare alle persone, perché le persone non si devono stare a casa, devono reagire nella vita, si devono divertire. Non pensiamo in broglie, perché in broglie l'avevamo tutti, bisogna superare gli ostacoli. Angela, cosa ti piace fare quando non sei a fare le strade in discoteca o non sei in tv? Io sono una persona normalissima, la mattina mi vesto, prendo l'autobus, scendo a Catania, mi faccio due ore di strada a piedi, cammino, le persone mi fremmono, mi baciano, si fanno le foto. E io sono felicissima che ho tutte queste persone che mi vogliono bene. Perfetto, vuoi dire qualcosa ai giovani che vanno in discoteca a divertirsi? Io ci dico sempre ai ragazzi di andare a ballare, però non si devono né drogare né ubriacarsi, perché la vita è bella e se la devono godere, sì, lo so che sono senza lavoro. Ma io ci auguro un buon anno e un po' che il Signore li aiuta a trovare il lavoro e così stanno bene. Perciò ragazzi, vi raccomando, non vi drogate, non bevete alcol, perché la vita è bella. Ok Angela, grazie mille. Ringraziamo anche il Pegasus Club di Catania. Allora niente, ci vediamo la prossima serata. Alla prossima volta. Grazie a tutti.